Lo ha investito un collega in un cantiere edile all'interno del petrolchimico di Ravenna. Un operaio di 59 anni, Stefano Poletti, è stato colpito da un escavatore in manovra che non gli ha lasciato scampo. Il cantiere fa capo al consorzio Ravenna Servizi Industriali e risulta affidato in appalto alla cooperativa Ravennate Acmar, che a sua volta ha subappaltato i lavori. I due operai, dipendenti di aziende diverse, erano alla guida di pale meccaniche per lo spianamento di un piazzale sul quale trasferire alcune strutture prefabbricate. Il 59enne è sceso dal mezzo per coordinarsi col collega, avvicinandosi alla seconda ruspa in manovra e proprio in quel momento è stato travolto, morendo sul colpo. Sul posto sono giunti immediatamente il 118, la polizia di Stato e la medicina del lavoro. L'area è stata posta sotto sequestro, le indagini sono in corso per chiarire la dinamica della tragedia. I sindacati puntano il dito ancora una volta sulla mancanza di sicurezza nelle filiere degli appalti e subappalti, dove continua a verificarsi il maggior numero di infortuni mortali sul lavoro. Noi lo vediamo nei cantieri ma lo vediamo dentro le fabbriche, gli ultimi morti che ci sono stati a Ravenna sono lavoratori che lavoravano in appalto, ci sono varie linee di comando che non si parlano e alla fine i lavoratori degli appalti muovono.